Ancora per Escudero che si invola verso l'era di rigore, Escudero davanti al portiere Lo battezza sul primo palo, lo supera e c'è il vantaggio della Doria con Escudero Sul mancino il numero 24, Necci ora la conclusione che viene smorzata Poi l'uscita a vuoto ancora sotto porta E non sbaglia Marini 2-0 della Doria Gliela scippa via il numero 47 Procopio Poi lo scarico verso Necci ancora per Procopio Dentro l'era di rigore Traiettoria corta la tocca Sottoporta Teodoli E ora si il tipper team va sul 2-1 Attenzione a Basilico dal limite Basilico al pallone sul mancino Spalla la porta Appoggio per Procopio Che conclude sul primo palo La tiene lì lo scalzo Anzi Visconti Si defila, Visconti il tocco morbido al rimorchio per l'otto Bargellini Ancora una volta però Ludovici è ben posizionato Il calcio d'angolo, il traversone che stava per diventare pericolosissimo Ancora Necci sul lato corto dell'aria Viene atterrato Calcio di rigore Per la Doria Lo scalzo cerca di distrarre Silvani che dà il dischetto però lo spiazza 3-1 Doria Necci Si fa tutto il campo Necci sul mancino Sempre Necci Entra dentro l'aria Necci il diagonale Poi Sottoporta È un gioco da ragazzi per Silvani Mettere il gol del 4-1 Cipolletta in verticale per Visconti che fitta la conclusione Si sposta il pallone sul mancino Trova il secondo palo e riapre ancora una volta la partita Valentini Rimane solo Baldacci Direttamente in porta Valentini Non può far nulla Amici 5-2 Della Doria Visconti Si guadagna lo spazio per la conclusione Impegna dalla distanza Ludovici Allontanato E attenzione perché adesso il Tiber Team è davvero scoperto Il pallonetto di Basilico La traversa a salvare lo scalzo Cosa stava per fare Il numero 92 della Doria E proprio su questa azione arriva il triplice fischio dell'arbitro Vince la Doria per 5-2 contro il Tiber Team Grazie mille